In questo video, ti mostreremo la conversazione sui colloqui di lavoro per più posizioni. Includono Social Media Officer Responsabile del progetto Responsabile Marketing Responsabile della tecnologia Internet Specialista della catena di fornitura Gestore dell'account Designer grafico Ragioniere Responsabile delle risorse umane Direttore dello sviluppo aziendale Responsabile degli acquisti Direttore tecnico Amministratore delegato Abbiamo lo stesso video anche in altre lingue Puoi ottenere video accedendo ai nostri canali in altre lingue dalla casella Descrizione Forniamo anche sottotitoli in inglese in ogni video Cominciamo Colloquio di lavoro per Social Media Officer Buongiorno, grazie per essere venuto per l'intervista Puoi iniziare raccontandomi un po' di te? Buongiorno, grazie per avermi invitato Mi chiamo Sara e mi sono recentemente laureata in marketing all'Università di Harvard Ho anche completato due stage di marketing durante il mio periodo universitario Sembra fantastico, Sara Puoi parlarmi di un progetto a cui hai lavorato e di cui sei particolarmente orgoglioso? Certo Durante il mio ultimo tirocinio, ho fatto parte di un team che ha lanciato una nuova linea di prodotti per la nostra azienda Sono stato responsabile della creazione della campagna sui social media Ti ha portato a un aumento del 30% del coinvolgimento e del 20% delle vendite È impressionante, Sara Puoi spiegarmi il tuo processo di pensiero durante la creazione della campagna sui social media? Sì Innanzitutto, ho studiato il pubblico di riferimento e analizzato il loro comportamento sui social media Quindi, ho creato una strategia per i contenuti incentrata su grafica e video visivamente accattivanti che avrebbero attirato la loro attenzione Ho anche collaborato con influencer per promuovere il prodotto e incoraggiare i loro follower a provarlo Approccio molto completo, Sara Puoi parlarmi di una sfida che hai affrontato durante il tirocinio e di come l'hai superata? Una delle sfide che ho dovuto affrontare è stata quando la data di lancio del prodotto è stata posticipata di due settimane Ciò significava che ho dovuto modificare la campagna sui social media e collaborare con gli influencer per velocizzare i loro post Ho superato questa sfida comunicando in modo efficace con il team e dando priorità alle attività per rispettare la nuova scadenza Ottime capacità di risoluzione dei problemi, Sara Infine, avete domande per me? Sì, mi chiedevo com'è la cultura aziendale qui e quali sono le opportunità di crescita all'interno dell'azienda La nostra azienda apprezza una cultura collaborativa e innovativa in cui i dipendenti sono incoraggiati a pensare fuori dagli schemi e a lavorare insieme verso un obiettivo comune Per quanto riguarda le opportunità di crescita, abbiamo un programma di tutoraggio e offriamo anche corsi di sviluppo professionale ai nostri dipendenti Sembra fantastico! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Sara Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per Project Manager Buon pomeriggio, grazie per essere venuto per l'intervista Puoi iniziare raccontandomi la tua esperienza nella gestione di progetti? Buon pomeriggio, grazie per l'invito Ho lavorato come Project Manager negli ultimi 5 anni Nel mio ruolo precedente, gestivo team interfunzionali per consegnare progetti nei tempi e nel rispetto del budget Ho anche esperienza nella pianificazione di progetti, nella gestione del rischio e nella comunicazione con le parti interessate Ottimo, puoi darmi un esempio di un progetto che hai gestito e quali sfide hai dovuto affrontare durante il progetto? Certo! Ho gestito un progetto di sviluppo software che ha coinvolto più parti interessate e requisiti complessi La sfida principale che abbiamo dovuto affrontare è stata la definizione dell'ambito e la gestione delle modifiche all'ambito del progetto Per risolvere questo problema, ho implementato un processo di gestione delle modifiche che prevedeva la revisione e l'approvazione di tutte le modifiche all'ambito del progetto Questo ci ha aiutato a rimanere sulla buona strada e a consegnare il progetto in tempo È impressionante, puoi parlarmi del tuo stile di leadership e di come motivi il tuo team? Il mio stile di leadership è collaborativo e solidale Credo nel potenziare il mio team e nel fornire loro le risorse di cui hanno bisogno per avere successo Mi piace anche riconoscere e premiare i membri del team per il loro contributo e incoraggiare una comunicazione e un feedback aperti Eccellente! Puoi parlarmi di un momento in cui hai dovuto prendere una decisione difficile e di come l'hai affrontata? Sì, una volta ho dovuto decidere di licenziare un membro del team che non stava ottenendo buoni risultati e che aveva un impatto negativo sul morale della squadra Ho affrontato la situazione con empatia e compassione, ma ho anche chiarito che il loro comportamento non era accettabile Ho anche collaborato con le risorse umane per garantire che il processo di cessazione fosse gestito correttamente e con dignità Buone capacità comunicative e decisionali, puoi parlarmi della tua esperienza con la metodologia agile? Sì, sono certificato in metodologia agile e ho esperienza nella gestione di progetti utilizzando framework agile come Scrum e Kanban Ho collaborato con i team di sviluppo per implementare pratiche agile e ho visto i vantaggi di una maggiore produttività e di una migliore collaborazione Ottimo, infine hai qualche domanda per me? Sì, mi chiedevo a che tipo di progetti lavorerebbe il project manager in questo ruolo e quali opportunità ci sono di crescita professionale? In qualità di project manager in questo ruolo, sarai responsabile della gestione di team interfunzionali per realizzare progetti in linea con i nostri obiettivi aziendali Offriamo programmi di tutoraggio, formazione alla leadership e altre opportunità di sviluppo professionale Sembra fantastico! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuto per l'intervista. Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per marketing manager Salve, mi chiamo Jennifer Brown. È bello conoscerti Ciao Jennifer, sono John Smith. Grazie per essere venuto oggi Abbiamo ricevuto la tua candidatura e i nostri dipendenti hanno indicato che saresti la persona ideale per la nostra posizione di marketing manager Puoi parlarmi della tua esperienza nel marketing? Sì, ho lavorato nel marketing negli ultimi otto anni Nel mio ruolo attuale, gestisco la strategia di marketing per un'azienda di software, tra cui marketing e digitale, content marketing e pianificazione di eventi Sembra fantastico! Puoi darmi un esempio di una campagna di marketing di successo che hai sviluppato? Sì, ho sviluppato una campagna per promuovere il lancio di un nuovo prodotto Abbiamo utilizzato email marketing mirato, pubblicità sui social media e influencer marketing per raggiungere il nostro pubblico La campagna ha portato a un aumento delle vendite del 20% e ha superato i nostri obiettivi di marketing È impressionante! Come si misura il successo di una campagna di marketing? Credo nella definizione di obiettivi chiari e nel monitoraggio degli indicatori chiave di performance durante tutta la campagna Questo ci consente di misurare il successo della campagna e portare le modifiche necessarie Alcuni KPI che utilizzo includono il traffico del sito web, i tassi di conversione e il coinvolgimento sui social media Buono a saperlo come rimane aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie di marketing? Partecipo a conferenze e webinar di settore Leggo blog e pubblicazioni di marketing e faccio rete con altri professionisti del marketing Mi piace anche sperimentare nuove tecnologie e strategie di marketing per vedere cosa funziona meglio per la mia azienda Ottimo! Puoi parlarmi della tua esperienza con la gestione del team? Sì, ho gestito team composti da un massimo di 10 persone nei miei ruoli precedenti Credo nella creazione di un ambiente di lavoro positivo e solidale in cui tutti possano prosperare Stabilisco anche obiettivi e aspettative chiari per il team e fornisco feedback regolari per aiutarlo a migliorare Sembra che tu abbia le competenze che stiamo cercando. Avete domande da farmi? Sì, puoi dirmi di più sulla cultura e sui valori aziendali? Certo, la nostra cultura aziendale valorizza la collaborazione, l'innovazione e l'attenzione al cliente Abbiamo un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo e incoraggiamo i nostri dipendenti a essere creativi e a prendere l'iniziativa Sembra fantastico! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Jennifer. Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per Internet Technology Manager Salve, mi chiamo Sara Lee. Grazie per aver dedicato del tempo per incontrarmi oggi Salve Sara, sono James Brown, il responsabile delle assunzioni per la posizione di Internet Technology Manager Abbiamo esaminato la tua candidatura e i nostri dipendenti hanno affermato che hai una solida esperienza nella gestione della tecnologia Internet Puoi dirmi di più sulla tua esperienza in questo campo? Certamente! Lavoro nel campo della tecnologia Internet da oltre 10 anni, iniziando come sviluppatore di software per poi passare a ruoli dirigenziali Nella mia posizione più recente, sono stato responsabile della gestione di un team di sviluppatori e della supervisione dell'implementazione di nuovi sistemi software per una grande azienda di e-commerce Questo è fantastico! Puoi darmi un esempio di un progetto particolarmente impegnativo che hai gestito nel tuo ruolo precedente? Sì, avevamo un importante progetto per aggiornare la nostra piattaforma di e-commerce per migliorare l'esperienza dei nostri clienti Ciò ha comportato il coordinamento con più team, fornitori e parti interessate e la garanzia che il progetto fosse completato nei tempi e nel rispetto del budget È stata una sfida, ma siamo riusciti a completare il progetto con successo, e abbiamo registrato un aumento significativo della soddisfazione dei clienti È impressionante! Come rimani aggiornato con le ultime tendenze e tecnologie nella tecnologia Internet? Partecipo a conferenze di settore, partecipo a forum e webinar online e leggo pubblicazioni e blog pertinenti Incoraggio inoltre i membri del mio team a rimanere aggiornati con le tecnologie e le tecniche più recenti È bello sentirlo! Come si affronta la gestione di un team di sviluppatori? Credo nella definizione di obiettivi e aspettative chiari, nel fornire feedback e coaching regolari e nel promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e solidale Mi assicuro inoltre che i membri del team dispongano delle risorse e degli strumenti necessari per avere successo Eccellente hai domande per me sulla nostra azienda o su questa posizione? Sì, puoi dirmi di più sulla cultura aziendale e sul tipo di supporto e risorse a cui ha accesso il Dipartimento IT? Certo! La nostra cultura aziendale valorizza il lavoro di squadra, l'innovazione e il servizio clienti Abbiamo un ambiente di lavoro collaborativo e solidale e incoraggiamo i nostri dipendenti a imparare e crescere nella loro carriera Il nostro reparto IT ha accesso alle tecnologie e agli strumenti più recenti e offriamo opportunità di formazione e sviluppo continua ai membri del nostro team Sembra fantastico! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Sara! Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per specialista della catena di fornitura Buongiorno, mi chiamo Maria Rodriguez. È un piacere conoscerti Buongiorno, Maria. Sono James Brown, il responsabile delle assunzioni per la posizione di Supply Chain Specialist Il nostro team ha esaminato la tua candidatura e i nostri dipendenti hanno affermato che hai una solida esperienza nella gestione della catena di fornitura Puoi dirmi di più sulla tua esperienza in questo campo? Sì. Ho lavorato nella gestione della catena di fornitura per oltre 5 anni, sia nella logistica che negli acquisti Nella mia posizione precedente, ho gestito le operazioni logistiche per un centro di distribuzione regionale di una grande catena di vendita al dettaglio Questo è fantastico! Puoi darmi un esempio di un progetto particolarmente impegnativo che hai gestito nel tuo ruolo precedente? Certamente! Uno dei progetti più impegnativi è stato quando abbiamo avuto bisogno di implementare un nuovo sistema di gestione dell'inventario nel nostro centro di distribuzione Ha comportato il coordinamento con più team, fornitori e parti interessate e la garanzia che il progetto fosse completato nei tempi e nel rispetto del budget Attraverso una comunicazione e una gestione del progetto efficaci, siamo stati in grado di completare il progetto con successo, il che ha portato a una gestione più efficiente dell'inventario e a un risparmio sui costi per l'azienda Impressionante! Come rimanere aggiornati con le ultime tendenze e le migliori pratiche nella gestione della catena di fornitura? Partecipo a conferenze di settore, partecipo a forum e webinar online e leggo pubblicazioni e blog pertinenti Inoltre comunico regolarmente con i colleghi e partecipo a sessioni di formazione per rimanere aggiornato con gli strumenti e le tecniche più recenti È bello sentirlo! Puoi parlarmi del tuo approccio alla collaborazione con fornitori e venditori? Credo nella costruzione di solide relazioni con i nostri fornitori e venditori attraverso una comunicazione aperta e la fiducia È importante comprendere le loro esigenze e requisiti e lavorare in modo collaborativo per garantire il raggiungimento dei nostri traguardi e obiettivi Credo anche nello sviluppo di partnership a lungo termine che vadano a vantaggio di entrambe le parti Ottimo approccio! Hai domande per me sulla nostra azienda o su questa posizione? Sì, mi chiedevo com'è la cultura aziendale e come il team della catena di fornitura si inserisce nella strategia aziendale complessiva La nostra cultura aziendale valorizza il lavoro di squadra, l'innovazione e il servizio clienti Abbiamo un ambiente di lavoro collaborativo e solidale e incoraggiamo i nostri dipendenti a imparare e crescere nella loro carriera Il team della catena di fornitura è parte integrante della nostra strategia generale e garantisce operazioni efficienti ed efficaci a supporto delle esigenze dei nostri clienti È bello sentirlo! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Maria! Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per account manager Buongiorno, mi chiamo Anna Johnson. È un piacere conoscerti Buongiorno, Anna. Sono James Brown, il responsabile delle assunzioni per la posizione di account manager Il nostro team ha esaminato la tua candidatura e i nostri dipendenti hanno dichiarato che hai una vasta esperienza nella gestione degli account Puoi dirmi di più sul tuo background in questo campo? Sì, certamente. Ho lavorato come account manager negli ultimi sei anni, principalmente nel settore pubblicitario Nella mia posizione precedente, gestivo un portafoglio di clienti chiave, supervisionando le loro campagne pubblicitarie dall'inizio alla fine Questo è fantastico! Puoi darmi un esempio di un account particolarmente impegnativo che hai gestito nel tuo ruolo precedente? Uno degli account più impegnativi che ho gestito è stato quello di una catena di ristoranti nazionale che stava lanciando un nuovo menù Era un mercato altamente competitivo, e avevamo bisogno di elaborare una campagna pubblicitaria creativa ed efficace che si distinguesse dalla massa Attraverso un'efficace collaborazione con il cliente, i team creativi e altre parti interessate, siamo stati in grado di sviluppare una campagna di successo che non solo ha raggiunto gli obiettivi del cliente, ma ha anche superato le sue aspettative Impressionante! Come si assegna la priorità al carico di lavoro e si gestiscono più account in modo efficace? Credo nell'organizzazione e nell'utilizzo di un approccio strategico Assegno priorità al mio carico di lavoro in base alle esigenze, e agli obiettivi del cliente utilizzo strumenti e software di gestione dei progetti per aiutarmi a rimanere aggiornato sulle mie attività Credo anche nella comunicazione e nella collaborazione efficaci con gli altri membri del team per garantire che stiamo lavorando tutti insieme verso un obiettivo comune È bello sentirlo! Puoi parlarmi del tuo approccio alla costruzione e al mantenimento delle relazioni con i clienti? Credo nella costruzione di relazioni solide con i clienti attraverso una comunicazione aperta e onesta, la fiducia e il mantenimento delle nostre promesse La comprensione degli obiettivi e delle sfide aziendali è una priorità e collaboro con loro per sviluppare soluzioni che soddisfino le loro esigenze Credo anche nella comunicazione proattiva e nel controllo regolare con i clienti per garantire che stiamo soddisfacendo le loro aspettative, e risolvendo eventuali dubbi che potrebbero avere Ottimo approccio! Hai domande per me sulla nostra azienda o su questa posizione? Sì, mi chiedevo quali fossero le priorità chiave per questa posizione e in che modo il team di gestione degli account si inserisse nella strategia aziendale complessiva Le priorità chiave di questa posizione sono gestire e far crescere il nostro portafoglio di clienti chiave e garantire un servizio clienti eccellente ai nostri clienti Il team di gestione degli account è parte integrante della nostra strategia generale e garantisce la soddisfazione delle esigenze e degli obiettivi dei nostri clienti e il mantenimento di relazioni a lungo termine a vantaggio di entrambe le parti È bello sentirlo! Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Anna! Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per Graphic Designer Salve, mi chiamo Emily. Grazie per avermi ospitato qui oggi Salve, Emily. Sono James, il responsabile delle assunzioni per la posizione di Graphic Designer Il nostro team ha esaminato la tua candidatura e i nostri dipendenti hanno affermato che hai un portafoglio e competenze straordinari nella progettazione grafica Puoi dirmi di più sulla tua esperienza in questo campo? Certo, ho lavorato come Graphic Designer negli ultimi 5 anni, con particolare attenzione al branding e al marketing e design Ho avuto l'opportunità di lavorare su vari progetti, dalla progettazione di loghi alla creazione di materiali di marketing come brochure, grafica per social media e design di siti web Sembra impressionante. Puoi parlarmi di un progetto particolarmente impegnativo a cui hai lavorato nella tua posizione precedente? Uno dei progetti più impegnativi su cui ho lavorato è stato per una startup che aveva bisogno di un'identità di marca completa da zero È stata una sfida perché il cliente non aveva idea di cosa volesse ed era mia responsabilità elaborare un concept che potesse rappresentare efficacemente il suo marchio Ho dovuto condurre ricerche approfondite sul loro settore e sul loro pubblico di riferimento e creare diverse iterazioni fino a quando non abbiamo finalmente stabilito un'identità di marca di cui fossero soddisfatti È impressionante! Come gestisci il tuo tempo e dai priorità al tuo carico di lavoro quando lavori su più progetti? Credo nell'utilizzo di strumenti di gestione dei progetti per aiutarmi a rimanere sulla buona strada Mi assicuro di pianificare le mie attività in base alle scadenze, dare priorità ai progetti urgenti e comunicare in modo efficace con i miei clienti per assicurarmi che siano a conoscenza di eventuali ritardi o modifiche Credo anche nella definizione di tempistiche realistiche per ogni progetto per garantire che io stia consegnando un lavoro di qualità in tempo È bello sentirlo! Puoi parlarmi del tuo processo di progettazione e di come ti vengono in mente idee creative per i tuoi progetti? Il mio processo di progettazione inizia in genere con la ricerca e il brainstorming Faccio ricerche sul settore e sulla concorrenza del cliente e trago ispirazione da varie fonti, come blog di design e social media Da lì, abbozzo idee approssimative e creo diverse iterazioni fino a ottenere un design che credo rappresenti efficacemente il marchio del cliente e soddisfi i suoi obiettivi Credo anche nell'essere aperti al feedback e incorporarlo nei miei progetti per garantire che il cliente sia soddisfatto del prodotto finale Ottimo approccio! Hai domande per me sulla nostra azienda o su questa posizione? Sì, mi chiedevo com'è la cultura aziendale e quali siano le principali responsabilità di questa posizione La nostra cultura aziendale è collaborativa e creativa, con particolare attenzione al lavoro di squadra e all'apprendimento continuo Le principali responsabilità di questa posizione sono creare design visivamente accattivanti che rappresentino efficacemente i marchi dei nostri clienti e soddisfino i loro obiettivi di marketing Il graphic designer lavora anche a stretto contatto con il team creativo e i project manager per garantire che le esigenze dei nostri clienti siano soddisfatte e che forniamo un lavoro di alta qualità in tempo Sembra un ottimo ambiente in cui lavorare. Grazie per aver risposto alle mie domande Grazie per essere venuta per l'intervista, Emily. Ti contatteremo presto in merito ai passaggi successivi Colloquio di lavoro per contabile Buongiorno, puoi dirmi il tuo nome? Buongiorno, mi chiamo Jessica Johnson È stato un piacere conoscerti, Jessica. Puoi dirmi qualcosa del tuo background e della tua esperienza in materia di contabilità? Sì, ho una laurea in contabilità e ho lavorato come contabile negli ultimi 5 anni, principalmente nel settore dei servizi finanziari Ho esperienza in rendicontazione finanziaria, preparazione fiscale e contabilità Sembra fantastico. I nostri dipendenti che hanno lavorato con te in passato hanno affermato che hai una forte attenzione ai dettagli e che sei molto organizzato Puoi dirmi in che modo queste qualità ti hanno aiutato nei tuoi precedenti ruoli contabili? Sì, credo che l'attenzione ai dettagli e all'organizzazione siano fondamentali nella contabilità È importante assicurarsi che tutti i registri finanziari siano accurati, e che non venga perso nulla Mi sono sempre assicurato di rimanere organizzato e di tenere traccia di tutte le scadenze importanti per garantire che tutto fosse completato in tempo Eccellente e puoi anche parlarmi di un impegnativo progetto contabile su cui hai lavorato in passato e di come hai superato gli ostacoli? Sì, c'era un progetto in cui dovevamo riconciliare un gran numero di account per un cliente in un breve lasso di tempo La sfida consisteva nel fatto che c'erano molte discrepanze nei conti, ed era difficile identificarne la causa principale Ho affrontato questa sfida suddividendo gli account in categorie più piccole e concentrandomi su uno alla volta Ho anche lavorato a stretto contatto con il mio team per assicurarmi che fossimo tutti sulla stessa pagina e collaborassimo in modo efficace Alla fine, siamo riusciti a riconciliare tutti gli account entro la scadenza Impressionante! Infine, puoi dirmi perché sei interessato a questa posizione di contabile presso la nostra azienda? Sono molto interessato a questa posizione perché sono colpito dalla reputazione e dai valori dell'azienda Credo che la mia esperienza e le mie capacità in materia di contabilità sarebbero perfette per la posizione e che sarai in grado di contribuire al successo dell'azienda Sono anche entusiasta dell'opportunità di lavorare con un team di professionisti che condividono la passione per la contabilità e la finanza Grazie per il tuo tempo, Jessica. Ti contatteremo presto in merito alle fasi successive del processo di assunzione Colloquio di lavoro per responsabile delle risorse umane Ciao, puoi dirmi il tuo nome? Buongiorno, mi chiamo Linda Piacere di conoscerti, Linda Quindi, abbiamo ricevuto un feedback positivo sulla tua precedente esperienza lavorativa e sulle tue competenze dalle tue referenze Puoi dirmi qualcosa in più sulle tue qualifiche e sul motivo per cui pensi di essere adatto per questa posizione di responsabile delle risorse umane? Sì. Ho una laurea in risorse umane e ho lavorato nelle risorse umane per oltre cinque anni, specializzandomi in assunzioni, relazioni con i dipendenti e gestione delle prestazioni Credo che le mie capacità e la mia esperienza sarebbero perfette per questa posizione, poiché sono fiducioso di poter gestire le responsabilità, e le sfide che derivano dall'essere un responsabile delle risorse umane È bello sentirlo. Potresti darmi un esempio di una situazione difficile che hai dovuto affrontare nel tuo precedente ruolo nelle risorse umane e come l'hai gestita? Sì, una volta ho dovuto mediare un conflitto tra due dipendenti che avevano avuto un disaccordo che si era trasformato in una vera e propria discussione Ho ascoltato le preoccupazioni di entrambe le parti e ho lavorato con loro per trovare una soluzione che soddisfacesse entrambe Siamo riusciti a risolvere il problema pacificamente e dopo i due dipendenti sono stati in grado di lavorare insieme in modo efficace Ottime capacità di risoluzione dei problemi, Linda. Cosa ne pensi della diversità e dell'inclusione sul posto di lavoro? Credo che la diversità e l'inclusione siano essenziali per il successo di qualsiasi organizzazione Nei miei precedenti ruoli nelle risorse umane, ho implementato programmi e politiche che incoraggiano la diversità e l'inclusione Ad esempio, ho contribuito a creare gruppi di risorse per i dipendenti che hanno fornito supporto e senso di comunità a dipendenti di diversa provenienza Ottimo, Linda. Penso che abbiamo risposto a tutto quello che volevo chiederti oggi. Avete domande da farmi? Sì, lo so. Puoi dirmi di più sulla cultura aziendale e su com'è lavorare qui? Certo. La nostra cultura aziendale valorizza la collaborazione, l'innovazione e una forte etica del lavoro Incoraggiamo i nostri dipendenti ad assumersi la responsabilità del proprio lavoro e a offrire opportunità di crescita e sviluppo professionale Grazie per il tempo che ci hai dedicato oggi. È stato bello incontrarti e saperne di più su queste entusiasmante opportunità Grazie per essere venuta, Linda. Ti contatteremo presto in merito alle fasi successive del processo di assunzione Colloquio di lavoro per il direttore dello sviluppo aziendale Buongiorno, mi chiamo Anglea e sono qui per la posizione di direttore dello sviluppo aziendale Salve, Angela. Grazie per essere venuto oggi. Permettetemi di presentarmi, sono James, il responsabile delle assunzioni per questa posizione Prima di iniziare il colloquio, voglio informarti che ho ricevuto un feedback positivo sulle tue qualifiche dai membri del nostro team che hanno esaminato la tua candidatura Grazie, James. È bello sentirlo Allora, Anglea, puoi dirmi qualcosa sulla tua esperienza precedente e su come si collega al ruolo di direttore dello sviluppo aziendale? Certo, ho oltre 18 anni di esperienza in ruoli di sviluppo aziendale e vendita, dove ho guidato con successo i team nel raggiungimento degli obiettivi di fatturato e nell'espansione della base di clienti Ho esperienza nell'analisi delle tendenze del mercato, nell'identificazione di potenziali clienti e nello sviluppo ed esecuzione di piani strategici per aumentare le vendite e i ricavi Inoltre, ho una comprovata esperienza nella costruzione e nel mantenimento di solide relazioni con i clienti Sembra impressionante, Anglea. Puoi spiegarmi un esempio specifico di progetto o iniziativa di successo che hai guidato nel tuo ruolo precedente? Sì, un progetto che ho guidato è stato lo sviluppo e l'implementazione di una nuova strategia di vendita per un cliente che non aveva ottenuto risultati soddisfacenti Dopo aver analizzato il mercato e aver compreso le esigenze del cliente, ho proposto un nuovo approccio alle vendite incentrato su un servizio clienti personalizzato e soluzioni su misura Questa iniziativa ha comportato un aumento del 30% dei ricavi delle vendite per il cliente entro i primi sei mesi Ottimo lavoro, Anglea. Quali sono secondo te le qualità più importanti che un direttore dello sviluppo aziendale dovrebbe possedere? Credo che un direttore dello sviluppo aziendale debba essere un leader forte in grado di motivare e guidare il proprio team verso il raggiungimento di obiettivi comuni Inoltre, è importante avere eccellenti capacità comunicative e interpersonali per costruire e mantenere solide relazioni con clienti e partner Anche la capacità di analizzare le tendenze del mercato e identificare nuove opportunità è fondamentale per il successo in questo ruolo Sono d'accordo, Anglea. Infine, hai qualche domanda per me? Sì, puoi dirmi di più sui piani di crescita dell'azienda e su come il direttore dello sviluppo aziendale si inserirebbe in tale strategia? Assolutamente. Attualmente ci stiamo espandendo in nuovi mercati e stiamo cercando di diversificare la nostra offerta di prodotti Il direttore dello sviluppo aziendale svolgerà un ruolo chiave nell'identificare e perseguire le opportunità per raggiungere tali obiettivi Sembra eccitante. Grazie per l'informazione, James Grazie per il tuo tempo oggi, Anglea. Ci metteremo presto in contatto Colloquio di lavoro per il responsabile degli acquisti Salve, benvenuti al colloquio. Puoi iniziare dicendomi il tuo nome? Sì, certo. Mi chiamo Helen Piacere di conoscerti, Helen. Il nostro team ha esaminato il tuo curriculum e ritiene che tu sia adatto per la posizione di responsabile degli acquisti Puoi dirmi di più sulla tua esperienza nel settore degli acquisti? Certo. Lavoro nel campo degli acquisti da oltre 25 anni, e ho esperienza negli acquisti nazionali e internazionali La mia posizione più recente è stata quella di responsabile degli acquisti presso Giant Corporation dove ho gestito un team di specialisti degli acquisti, e ho supervisionato i processi di approvvigionamento per l'azienda Sembra impressionante. Puoi raccontarmi di un periodo in cui hai affrontato una sfida nell'ambito degli acquisti e di come l'hai superata? Assolutamente. Una delle maggiori sfide che ho dovuto affrontare è stata quando abbiamo dovuto procurarci un prodotto specializzato per uno dei nostri progetti Il prodotto non era disponibile localmente e dovevamo rifornirci da un altro paese Tuttavia, a causa di circostanze impreviste, la consegna del prodotto è stata ritardata, il che avrebbe potuto influire sulla tempistica del progetto Ho collaborato con il fornitore per trovare una soluzione alternative, e siamo riusciti a trovare un prodotto sostitutivo adatto che soddisfacesse i requisiti del progetto e fosse disponibile entro i tempi richiesti Ottime capacità di risoluzione dei problemi. Puoi parlarmi anche della tua esperienza manageriale? Sì, come ho detto prima, ho gestito un team di specialisti degli acquisti nella mia posizione precedente Ero responsabile della definizione degli obiettivi, del monitoraggio delle prestazioni e della fornitura di feedback e coaching ai membri del team Credo nel dare l'esempio e promuovere un ambiente di lavoro positivo e collaborativo È bello sentirlo. Stiamo cercando qualcuno che possa guidare il team di approvvigionamento e lavorare a stretto contatto con gli altri reparti dell'azienda Come gestisci le relazioni con gli altri reparti e le parti interessate? Credo nella costruzione di solide relazioni con le parti interessate e gli altri reparti attraverso l'ascolto attivo, la reattività e la fornitura di aggiornamenti regolari sulle attività di approvvigionamento Mi sforzo anche di comprendere le loro esigenze e preoccupazioni e lavoro in modo collaborativo per trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose Eccellente grazie per averlo condiviso, Ellen. Queste sono tutte le domande che abbiamo per oggi. Ci metteremo presto in contatto con la nostra decisione Grazie per l'opportunità di fare un colloquio per questa posizione. È stato un piacere parlare con te Colloquio di lavoro per direttore tecnico Buongiorno, potresti presentarti? Buongiorno, mi chiamo Rita. Ho una laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Londra e ho lavorato come responsabile tecnico negli ultimi 5 anni Grazie, Rita. I nostri dipendenti hanno parlato molto bene della tua esperienza e competenza sul campo Puoi dirmi di più sulla tua esperienza alla guida di team di ingegneri? Certo, ho guidato vari team di ingegneri di dimensioni comprese tra 5 e 20 persone Ho esperienza nella gestione dei progetti, nella progettazione del prodotto e nel miglioramento dei processi Sono anche esperto in vari software e strumenti comunemente usati nel campo dell'ingegneria Eccellente, sembra che saresti perfetto per la posizione di direttore tecnico che abbiamo a disposizione Puoi parlarmi del tuo approccio alla leadership e alla gestione di un team? Sì, il mio approccio alla leadership consiste nel creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo in cui tutti si sentano ascoltati e apprezzati Credo nella definizione di obiettivi e aspettative chiari per il mio team nel fornire loro il supporto e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo Do anche priorità alla formazione e allo sviluppo continui del mio team per assicurarmi che crescano e migliorino costantemente Sembra tutto fantastico, Rita. Puoi raccontarmi di un periodo in cui hai dovuto risolvere un problema ingegneristico complesso e di come l'hai affrontato? Sì, una volta avevo un progetto in cui stavamo sviluppando un nuovo prodotto che richiedeva un tipo di processo di produzione molto specifico Abbiamo incontrato molte sfide con il processo e il prodotto non soddisfaceva i nostri standard di qualità Per risolvere il problema, ho riunito un team interfunzionale di esperti provenienti da varie aree dell'azienda per raccogliere idee e collaborare su soluzioni Siamo riusciti a mettere a punto un nuovo processo di produzione che soddisfaceva i nostri standard di qualità e superava le aspettative dei nostri clienti È impressionante! Infine, cosa pensi che ti distingua dagli altri candidati per questa posizione? Credo che la mia vasta esperienza nel settore, così come la mia comprovata esperienza nella gestione di team e nel miglioramento delle operazioni mi rendano un candidato ideale per questa posizione Inoltre, la mia capacità di adattarmi a nuove situazioni e di lavorare in collaborazione con gli altri sarebbe utile per guidare questo team Grazie per il tuo tempo, Rita! Ti contatteremo presto per conoscere le fasi successive del processo di assunzione Colloquio di lavoro per amministratore delegato Buon pomeriggio, puoi presentarti per favore? Buon pomeriggio, grazie per l'invito! Mi chiamo Katie e sono entusiasta di essere qui oggi È bello averti qui, Katie! Vedo che hai molta esperienza nella gestione e nella leadership Puoi dirmi qualcosa di più sul tuo background? Sì, lavoro in posizioni dirigenziali da oltre 30 anni Ho esperienza nella gestione di team, nello sviluppo e nell'esecuzione di strategie e nella guida delle organizzazioni attraverso la crescita e il cambiamento È impressionante! La nostra azienda è alla ricerca di un amministratore delegato Pensi di avere le competenze e l'esperienza giuste per questa posizione? Sì, lo so! Ho guidato le organizzazioni in periodi di crescita e cambiamento e sono fiducioso di potermi assumere le responsabilità di un CEO È bello sentirlo! I nostri attuali dipendenti ci hanno detto che saresti la persona giusta per questa posizione Puoi dirmi qualcosa in più sul tuo stile di leadership? Il mio stile di leadership si basa sul potenziamento e sullo sviluppo dei membri del mio team Credo nella definizione di obiettivi e aspettative chiari e nel fornire supporto e risorse per aiutare il mio team a raggiungerli Incoraggio la comunicazione aperta e la collaborazione e sono sempre alla ricerca di modi per migliorare e innovare Sembra un ottimo approccio! Come gestisci le sfide e gli ostacoli come leader? In qualità di leader, credo nell'adottare un approccio proattivo alle sfide e agli ostacoli Cerco di anticipare e mitigare i potenziali problemi e, in caso di problemi, collaboro con il mio team per trovare soluzioni e imparare dall'esperienza Sembra che tu abbia molta esperienza e un solido approccio alla leadership Puoi parlarmi di un progetto che hai guidato e di cui sei particolarmente orgoglioso? Un progetto di cui sono particolarmente orgoglioso è quando ho guidato un'organizzazione attraverso un'importante ristrutturazione Siamo stati in grado di semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza Il che ha comportato significati di risparmi sui costi e una maggiore redditività Sono orgoglioso di come il team abbia lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo È impressionante! Grazie per averlo condiviso con me! Avete domande da farmi? Sì, lo so! Puoi dirmi di più sugli obiettivi a lungo termine e sulla visione dell'azienda per il futuro? Certo, la nostra azienda è focalizzata sulla crescita sostenibile e sull'innovazione Siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare i nostri prodotti e servizi ed espanderci in nuovi mercati Il nostro obiettivo a lungo termine è diventare leader nel nostro settore e avere un impatto positivo sul mondo Sembra eccitante! Grazie per averlo condiviso con me! Grazie per essere venuta oggi, Katie! Ti contatteremo presto in merito alle fasi successive del processo di assunzione Grazie per avermi invitato! È stato un piacere conoscerti! Metti mi piace e iscriviti! E benvenuti a guardare altri video dal nostro canale! Grazie per avermi invitato!